Buongiorno a tutti ed eccoci live sui mercati. Come raccontavo nelle ultime settimane, stiamo aspettando da tempo che cosa? Stiamo aspettando che parta il T più 5 inverso, l'annuale inverso, che deve fare almeno, minimo minimo minimo, un T più 3 inverso, ovvero un ciclo trimestrale che rimanga sotto questo massimo, o sotto un massimo, a 26.687. Come si fa per poterlo fare? Si cerca di utilizzare un mensile, ma per farlo in modo più subdolo, in modo che meno trader siano al mercato per cogliere l'opportunità di discesa, lo si può fare anche tramite raccordi. E come vi dicevo ieri nell'analisi weekly, un raccordo di grado T, che può stare appunto tra determinati cicli, può avere anche una durata che arriva fino a 11 bar. Stessa identica cosa su DAX. Quindi, per poterla fare più sporca, che cosa si fa? Si va in overtime con il ciclo in essere, il T più 2, il T più 3, e poi si sfruttano proprio i raccordi per andare dove si deve e per far partire appunto questo ciclo di cui vi dicevo, questo nuovo annuale inverso. Un annuale inverso bisogna appunto perlomeno di 48 barre sotto un massimo, e come vi raccontavo ieri su DAX, noi siamo arrivati bene a 25 qui, finalmente. con quella di oggi, 26. Per prendersi un vantaggio però, prima della partenza di un nuovo T più 3, che comporta una spinta forte a rialzo, almeno un T più 1 comunque, ed è ben poco, si utilizzano questi scamotage. lateralità, poca direzionalità, tre streghe, ed eccoci qua. Poi potete aggiungere il discorso del possibile tapering di domani della Fed, il discorso dell'immobiliare cinese che sta fallendo, tutto quello che desiderate. Ma questo è il modo per evitare che i trader siano al mercato quando si devono verificare determinate discese. E ricordiamoci che appunto un T settimanale inverso dura al massimo anche 11 giorni. Stessa identica cosa su DAX. Qui c'era già ampiamente la condizione sufficiente ieri per poter chiudere questo raccordo, ci siamo presi un altro grossissimo vantaggio. Un'altra cosa importante è che il MIB sta scendendo tanto anche perché ci sono dei dividendi che vengono staccati, quindi attenzione anche a questo discorso perché può essere importante e impattante sulla centratura cifra. Per oggi che cosa faremo? Per oggi staremo a guardare dove si formerà un minimo. Dove si formerà il minimo? Ragioneremo sul come saremo messi come indicatore, ad esempio. Qui stiamo andando di nuovo in Golden Cross, in Death Cross, spinta a ribasso. Andiamo a vedere come analisi comparativa anche dove siamo andati a finire come livelli. Qui per esempio potrebbe essere un livello di rimbalzo. Se viene. Perché quando la Kumo viene traforata come il burro, oltretutto in Gap Down sembra di forza, prima di entrare Long, qualche ragionamento me lo faccio sicuramente, anche perché so che rientro in un tot di giorni che può allungarsi a 11 a livello di ciclo. Quindi anche su DAX iniziamo a fare tutti i conteggi relativi sia all'indice qui siamo arrivati ad esempio a 38 barre su massimo 44, quindi fino alle 10.45 potremmo continuare questa discesa molto forte. Nulla ci frena. Gli spazi ci sono. Anche in questo caso abbiamo traforato la media mobile a 50 periodi e potenzialmente il target di approdo potrebbero essere 14.893 nel tempo ciclo dato. Ma ripeto, ha tutto visto in ottica anche di infraday, ovvero attendiamo anche in questo caso l'orario dato, vediamo come reagiscono su quel minimo e se quel minimo viene superato dopo un T-5 laterale rialzista continuiamo ad assecondare la discesa. Se invece si inizia a rimbalzare forte valutiamo uno swing, ragioniamo su dove siamo arrivati di inverso e a quel punto ci muoviamo. Per cui eventualmente ci aggiorneremo in giornata per dare un'occhiata ai grafici e per vedere che cosa sta succedendo. Vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida giornata. La mia la sarà sicuramente perché è deciso così. Arrivederci!